Se l'un dea della luna governa i flussi delle mareeco, il mondo con il suo bagliore argentino, anche nella notte più buona Sembrava una voce abbastanza inquietante Bisogna scegliere le origini Io faccio esploratore del Nord Dark E si fa continuo Mi hanno esiliato a me Facciamo continuo Nome del personaggio Questo è una scelta abbastanza difficile Spifferina Al mio 3 inizio avventura 3 3 Con quale volume? Ma tu dove sei? Io sono su una spiaggia Si ma... In generale Cioè Io non ti vedo Ok si incomincia questa avventura fantastica Equipaggio 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 Aia Ma soldato semplice vuoi il freddo di me? Ma non mi dai una mano? Stupido Stupido soldato ignorante inutile Eeeh Che è questa una strega Oddio Ti congelo Ma Ma Oh io ho tirato l'incantesimo e non mi sia creato lo spettro Ma dai Uff Spettro deficiente Ah ok Premi uno per... Eeeh Sarebbe l'abilità super speciale Eeeh Cosa... Oddio Oh Oh no Chichissimo Praticamente tiro un pugnazzo per terra Escono fuori dei mostriciattoli bruttissimi Eeeh Vanno addosso i nemici Ma mi era più bella Valindra Ma cosa corri incontro a quel boss? Ma... Che scemo Mori Ma soldato Will è lì Che stupido Cos'è questo boss bruttissimo? Buu L'hanno scorticato Eeeh Sto vedendo anch'io una strega Probabilmente Ha avuto dei problemi con la chirurgia plastica Barbara D'Urso Eeeh Eeeh E anche il suo amico però ha problemi Eeeh Mi è morto Wildred? Noo è morto Wildred! Eeeh Come... Come... Non lo so Un bolotto Ed è quello che sta per fare il mostro Cos'è lo dirà? Ha cercato di colpire il pavimento Avrò visto qualcosa Che non andava! Oddio ma la... La... La mossa Q toglie tantissimo Si anche... E' morto l'Araldo Spavam! Salviamo il sudato Wildred E' morto l'Araldo E questo dovrebbe essere il prologo mi sa Si era il prologo Quindi... Questo era il prologo E adesso andiamo a... Spaccare i grandi Q. Eh si A presto! A presto! A presto! A presto!